da farci vedere tanto grazie a Sandro Abbondanza Guido Mussiglione, l'Avvocato Cucillo Massimo Finanti, Gigi Pavarese Idris Beppe Savoldi e Gennaro Ietcio e grazie al nostro parrucchiere Pasquale Aprende e Antonio il nostro collaboratore un abbraccio a tutti, domani intanto possiamo chiamare i due steward l'altro venite qua, portatevi di semplice, alzatelo in piedi gli steward del Napoli più bravi un applauso anche a loro, portatevi ragazzi, lui non deve vedere non deve vedere lo spogliarello chi lo salta è bianco e nero chi lo salta è bianco e nero nemmeno la giacca deve rimanere perché uno è un spogliarello che appartiene a noi perché era una promessa di Coppa Italia vieni qua, hai smosso una nazione TG Com tutti aspettano queste immagini possiamo vedere che cosa succede? allora ho promesso che immettevo con un costume azzurro presentando appunto questa grande vittoria del Napoli e così sia, musica eccola azzurro 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 Allora Marica ha mantenuto la promessa l'applauso dello studio è stata composta ragazzi allora senti posso dirti una cosa adesso mi sembra che vai in vacanza certo non si può non portare questo bellissimo asciugamano ai lovi in Napoli puoi stenderti prendi il sole mentre tu prendi il sole noi salutiamo con affetto tutte le persone che ci hanno sì ragazzi è stato di vostro gradimento dal profondo del cuore ragazzi dal profondo del cuore devi fare la foto calone dove stanno Raffaele Esposito eccoli stanno qui allora buonanotte forza Napoli ciao a tutti